Marilyn anche oggi siamo nelle magnifiche foreste a topiano di folgaria di conifore ed ecco la mia Marilyn cosa ha trovato piccola brava l'hai visto il porcino eh guardate qua dov'è voletus edulis la mia Marilyn superstar fungaiola ha trovato un bellissimo porcino brava 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 ed eccolo qua che stupendo e adesso lo raccogliamo eccolo qua bellissimo voletus edulis nelle magnifiche foreste a topiano di folgaria e con il porcino e la mia Marilyn amici vi saluto ciao